Ancora una volta Croce Rossa è presente in queste grandi manifestazioni, grazie soprattutto alla sinergia con le istituzioni locali, ci hanno chiamato per assicurare quello che è l'attività sanitaria in questi tre giorni, in questa manifestazione che ha lo spirito principale quello dello sport, della salute e del corretto stile di vita, che sono anche degli obiettivi all'interno della missione di Croce Rossa, quello appunto del corretto stile di vita, che cominciamo grazie ai nostri giovani a discutere all'interno delle scuole e poi portiamo avanti in tutte le nostre attività. Siamo impiegati noi con due ambulanze medicalizzate, quindi con medico a bordo, un ambulatorio mobile in postazione fissa e una sala operativa mobile che ci coordina attraverso le radio. Durante queste giornate abbiamo avuto circa 10-15 interventi per giorno, siamo provveduti subito tramite i nostri medici all'ospedalizzazione e siamo rientrati prontamente in postazione. Oltre alle ambulanze abbiamo delle squadre nostre affiedate che servono per girare nei vari campi sportivi. Ogni squadra di ragazzi è formata con almeno un operatore sanitario è un operatore che è abilitato all'uso del defibrillatore automatico. Tutti coadiuvati con delle radio e possibili interfacciarsi ognuno con la centrale operativa mobile.